buongiorno a tutti allora dopo aver rifatto il super gigante femminile dell'undici dicembre da san moriz andiamo a vedere come è andato invece lo slalom gigante maschile in bar di sera sempre dell'undici dicembre e soprattutto come è andata prima di tutto la prima maschile un berglie pilogone perché abbiamo un super odermatt davanti a tutti e signori miei pinturo ci è rimasto un po male perché sperava sperava giocando in casa conoscendo è casa sua lì è casa sua invece si deve accontentare nel secondo posto a 32 centesimi seguito come un falco pequeño a un centesimino a 33 centesimi da zucic più di staccati febbra 85 centesimi e il nostro dea liprodini a 95 centesimi però signori miei nella seconda manche può succedere di tutto e di più quindi non diamo per scontato che se la giocheranno solo i primi due il terzo c'è un po di vantaggio rispetto agli altri quindi c'è già in tasca il terzo posto mentre sarà forse più difficile attaccare il primi perché della seconda manche spesso e volentieri succede di tutto e di più per quanto riguarda gli italiani bene reali prodini però tonetti e tredicesimo con il decimo posto che ha 27 centesimi di distacco scusate un attimo stacco il cavetto perché ogni tanto mi appare 100 per cento e non si sa mai che poi dopo si blocchi eccomi qua dicevo tonetti e tredicesimo il decimo posto a 27 centesimi quindi non è distantissimo non pretendiamo che entri nei primi cinque perché sarebbe tanta roba troppa grazie a sant'antonio mentre invece borsotti e ventiquattresimo quindi da borsotti pretendiamo che entri almeno nelle 20 non entrare nelle 15 ma almeno recuperare qualche posizioncina e offeri invece partito con il pettorale 41 è trentesimo e quindi recuperare entrare magari nei 25 sarebbe già libidine vediamo la seconda manche come è andata il primo a scendere naturalmente è il nostro offer che è trentesimo e quindi prima scendere può sfruttare la pista bella liscia come un miliardo e magari zitto zitto cacchio cacchio recuperare qualche posizione il suo tempo finale è 2 15 73 attendiamo la discesa degli altri per capire in che posizione potrà arrivare intanto male che vada sarà trentesimo male che vada punticino che vuol dire magari passare dal quarantunesimo di pettorale al 38 40 39 eccetera 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 se ne arrivano più punti tanto di guadagnato tocca a tumbler 29esimo dopo la prima manche vantaggio di solo i 4 centesimi sull'italiano allora signori miei o tumbler ha fatto la gara della vita della vita e quindi magari entrerà nei 15 oppure il nostro offer si è accontentato come si suol dire di arrivare in fondo perché signori miei il simpatico tumbler zitto zitto cacchio cacchio come dicevo prima è primo con un secondo 08 di vantaggio adesso vedremo la discesa degli altri e dove arriverà alla fine della gara io non so nulla perché la sto vedendo adesso sapete benissimo che anche se ne vedo indifferita non guardo mai il risultato quindi mi vedo la gara come se fosse in diretta proprio per per gustarmela tocca a fulpe fulpe 27esimo dopo la prima manche vantaggio di 13 centesimi su tumbler stava facendo benino ma dopo il secondo intermedio in luce rossa di 22 centesimi scivola e deve salutare ahimè la gara 22 centesimi se calcolate che il buon tumbler ha dato un secondo 08 a offer 22 centesimi voleva fare voleva comunque dire fare una buona gara perché mi sa tanto che il buon tumbler ha fatto il garone della vita per ora nessuno riesce a stare davanti a offer a offer a tumbler e ci prova il nostro borsotti 24esimo dopo la prima manche vantaggio di ben 56 centesimi l'obiettivo prendere il primo posto e entrare nei 20 non chiediamo la luna purtroppo non ce la fa è soltanto secondo a 44 centesimi vedremo se nonostante questa gara un po discreta dai perché comunque credo che a questo punto che tumbler abbia fatto il garone forse forse nei 20 riesce ad entrare dai pensiamo fin positive diceva quello la toccarra damus vantaggio di 67 centesimi e 23esimo dopo la prima manche 67 centesimi su tumbler alla fine ce la fa proprio col ce lo fa ce l'ho fatta ma per un solo centesimo pensate ha perso 66 centesimi su tumbler che bella gara ha fatto comunque tumbler anche se il 23esimo è riuscito a stargli davanti però ricordiamoci 67 centesimi di vantaggio gli è stato davanti di un centesimo quindi bisognerà vedere adesso gli altri se riusciranno a stare davanti o se si dovranno inchinare comunque a loro due perché un centesimo è nulla o riesce a stare davanti al buon radamus o se no sei dietro c'è poco da fare e il simpatico tumbler recupera tocca a mursier ventesimo dopo la prima manche 28 centesimi di vantaggio una gara tra luce e ombre se capite cosa intendo ma alla fine c'entra il risultato anzi conta il risultato comunque c'entra il risultato che voleva perché comunque si mette davanti con 19 centesimi di vantaggio sul buon radamus il che vuol dire comunque fare una buona gara perché ripeto aveva 28 centesimi di vantaggio ne perde solo 9 resta davanti si pone in prima posizione era diciannovesimo zitto zitto cacchio cacchio questo potrebbe anche riuscire con un po di fortuna entrare nei 15 tocca a miljard sedicesimo dopo la prima manche ben 52 centesimi di vantaggio sul suo connazionale alla fine si prende il primo posto ma deve utilizzare quasi tutto il vantaggio iniziale visto che è davanti di soli 21 centesimi per ora nessuno è riuscito a incrementare il vantaggio iniziale a parte il buon tumbler che ha fatto il garone da paura gli altri sfruttano il fatto che erano in vantaggio su quelli che sono scesi prima di loro perché comunque erano dietro in classifica e di riff o di raffa riescono a mettersi davanti o comunque confermare la posizione della prima manche e zitto zitto cacchio cacchio il buon miljard è già nei 15 perché adesso tocca al nostro tonetti tredicesimo dopo la prima manche vantaggio di soli 3 centesimi di obiettivo prime 10 posizioni quello che dicevo prima ma purtroppo sbaglia però vuole arrivare in fondo fa la scalettina torna indietro finisce la gara ma un ritardo stratosferico di 10 secondi e 99 quindi ultimissimo vedremo se riuscirà lo stesso gli daranno lo stesso i punticini che potrà ottenere da ultimo bisognerà vedere quanti non finiranno la gara e quindi perché non penso che nessuno riuscirà a fare un tempo peggiore del suo 10 secondi e 99 sono veramente troppi però ha voluto finire e non mettere dnf nella gara non terminata il buon signori miei il buon simpatico e c'è belliard zitto zitto cacchio cacchio quale che vada sarà dodicesimo perché adesso tocca a christophersen undicesimo dopo la prima manche e vantaggio di 23 centesimi nonostante una gara non da christophersen diciamocelo è primo e riesce anche a incrementare di qualcosina al suo vantaggio visto che è davanti di 34 centesimi quasi sicuri i primi 10 vedremo se riuscirà a entrare anche nei primi 5 perché è il primo che riesce a incrementare a parte tubler che ha fatto il garone poi vedremo tubler in che posizioni sarà ve lo dirò alla fine della gara christophersen male che vada sarà nono perché adesso tocca a feller provare a scalzare il buon norvegese ottavo dopo la prima manche 31 centesimi di vantaggio direi che anche feller ha fatto una bella gara si prende al primo posto incrementa di qualcosina il vantaggio iniziale portandolo da 31 a 35 centesimi e adesso vedremo se gli sarà sufficiente per entrare nei primi 5 io non dico nulla lo scopriremo solo vedendo la gara vedendo la gara feller zitto zitto cacchio cacchio e li li tocca a dei alipandini quinto dopo la prima manche vantaggio di 25 centesimi obiettivo naturalmente confermarsi stando davanti a pazzarello feller purtroppo per un errorino proprio del finale del finale delle ultime 4 5 porte è secondo a soli 7 centesimi dal buon feller che zitto zitto cacchio cacchio è entrato nei primi 5 e c'è ma non dico niente ve lo dico dopo ve lo dico dopo perché adesso tocca a zupcic intanto dell'ipandini mantiene la seconda posizione perché il quarto gli è finito dietro e adesso tocca a zupcic tocca al primi 3 e il primo a scendere zupcic terzo dopo la prima manche vantaggio stratosferico 87 centesimi su feller però come dico sempre il gigante la prima manche è una cosa la seconda è un'altra e il simpatico zupcic prima commette un errore che gli fa perdere metà del vantaggio e al primo intermedio ne ha 43 di centesimi di vantaggio contro gli 87 iniziali poi si butta giù a 90 perché a tutta non a 90 che è brutto a tutta per cercare di recuperare incrementare eccetera sbaglia nuovamente ed è fuori è finito addirittura in mezzo ai cartelloni ne ha sradicato uno incazzatissimo e quindi deve salutare la gara e quindi feller zitto zitto cacchio cacchio da ottavo è già sicuro del podio vedete ed è per questo che il cronista quando è sceso dei aliprandini ed è arrivato dietro a feller di 7 centesimi ha detto speriamo che questi centesimi non ci facciano mangiare le mani a fine gara gufo malefico è il gufo malefico ci ha azzeccato perché adesso tocca a lui pinturo vantaggio di 88 centesimi su feller e lui non sbaglia lui non sbaglia però bisognerà vedere se basterà per stare davanti a un super order ma che c'è tra l'altro c'è anche 32 centesimi di vantaggio sul francese comunque pinturo è primo 65 centesimi di vantaggio su feller non incrementa anzi perde 23 centesimi del vantaggio che aveva per stare davanti a odermatt è dura avrebbe dovuto incrementare qualcosina cioè dare almeno un secondo a feller e poi vedere cosa faceva il buono odermatt perché l'odermatt visto oggi mi sa che sarà dura però staremo a vedere parte odermatt 32 centesimi di vantaggio e signori miei visto che siamo in francia al val di serra fra di zona francese chapeau chapeau per lo svizzero che si prende al primo posto con ben 59 centesimi di vantaggio e quindi vince il gigante lo slalom gigante di saint moritz complimenti a odermatt e signori miei quest'anno punta anche al bersaglio grosso la classifica generale di coppa del mondo non solo le varie discipline tra cui lo slalom gigante in cui teoricamente potrebbe portarsi a casa la sferina di cristallo dello slalom gigante ma potrebbe anche vincere la classifica generale se la giocano in tanti quest'anno ci sarà da divertirsi sia nel femminile che nel maschile comunque classifica finale dello slalom gigante di saint moritz primo odermatt secondo pinturo scusate ho detto saint moritz gigante di val di serre saint moritz era il femminile qua siamo in val di serre francia quindi piedovenia val di serre classifica finale dello slalom gigante di val di serre maschile naturalmente primo odermatt secondo pinturo terzo feller che recupera ben cinque posizioni dalla prima manche quarto dell'ipredini che ne recupera uno ma è già contento perché la sua migliore posizione in slalom a parte la questione medaglia d'oro medaglia d'argento eccetera in cui l'anno scorso libidine si è preso la medaglia però in slalom gigante lui non ha fatto ancora un podio c'è più di 20 più di 20 volte sembra 28 volte nelle prime cinque posizioni se non sbaglio ma non ha fatto ancora un podio quindi quarto quinto quinto quarto quarto quinto quinto quarto ma mai un podio a parte al mondiale all'olimpiade quello che era che ha fatto all'olimpiade dell'anno scorso se non sbaglio quinto il buon christophersen che zitto zitto cacchio cacchio ha recuperato sei posizioni da undicesimo entrato dei cinque sesto smid settimo begliar che ha recuperato ben nove posizioni ottavo fevro nono burzier che ne recupera ben undici era ventesimo dopo la prima masch e diecimo decimo cranie per quanto riguarda gli italiani borsotti entra nei venti col diciottesimo tempo e un più sei rispetto alla classifica che aveva il buonhofer sfiora i primi venti e ventunesimo recupera ben nove posizioni e me tonetti ne perde un botto e ventottesimo non so se gli daranno i tre punticini del o meno per quanto riguarda tumble recupera ben quindici posizioni e termina al quattordicesimo posto bene ragasoli vi ho raccontato lo slalom gigante maschile di val di serde l'undici dicembre 2021 chiedo venia se mi è scappato un semorsi c'è ovviamente ancora l'altra gara delle pulzelle detto questo io vi saluto vi ringrazio vado a fare interlai poi stasera vi farò vedere la pizza che mangerò come sempre sempre che questo video sarà online per tempo dipende sempre dai criceti ma tanto la pizza la vedrete comunque dopo questo video quindi in ogni caso chi lo vedrà saprà che c'è la pizza stasera la pizza gigiona come sempre non so che cosa prenderò vedremo sempre dal mio amico gigetto dell'arco della pizzeria arcobaleno che ultimamente sto facendo sempre il bis sto mangiando due però ve ne mostro una sola perché di pizza non ce ne sono centinaia e il bis è considerato devo fare tutta la stagione finché poi dopo andremo di nuovo dal mio amico della favola giorgione nerazzurro perché faccio una stagione da una parte una stagione per par condicio giustamente detto questo io vi saluto vi ringrazio che mi sono dilungato anche troppo e ci vediamo alla prossima ciao